L'ora di religione nelle scuole è cultura e non catechismo che si fa in parrocchia. Sono le parole del Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della CEI e Arcivescovo di Genova, contenuti in un messaggio in occasione della giornata di sensibilizzazione alla scelta dell'ora di religione che ricorre domani. Bagnasco raccomanda ai giovani di non lasciarsi guidare da pregiudizi che circolano e di non perdere un'opportunità formativa importante come persone e cittadini. Il Cardinale ricorda anche che è tempo di iscrivere gli studenti alla scuola per il prossimo anno e quindi è tempo di scelte che andranno a segnare il percorso formativo di tanti giovani, ragazzi e bambini che sono il nostro futuro. Ai genitori ricorda poi che il meglio per i figli coincide innanzitutto con la formazione della mente e del cuore ai grandi valori della vita, a ciò che conta veramente, smascherando miti e ingannevoli apparenze.